Ora veniamo a parlarvi di Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. Ovviamente sono un attimo nell'occhio del ciclone. Come vi abbiamo già raccontato i due si sono ritrovati in una nota discoteca di Napoli, nella quale la ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe comunicato che sta uscendo con un altro ragazzo che si chiama Nunzio, alla quale sarebbe seguita la reazione sia di Oscar che della sorella, la situazione sarebbe precipitata e sarebbero intervenuti i buttafuori. Questo almeno quanto abbiamo appreso dal sito di Veri Inutil People. Sinceramente a me sembrava già abbastanza, ossia notizie già sufficientemente gravi. Ma a quanto pare questa era solamente la punta dell'iceberg. Infatti la stessa Eleonora Rocchini ieri sera ha rilasciato un post dai toni che definire tremendi è dire poco. Eleonora Rocchini, tre anni da incubo con Oscar Branzani? Sinceramente io sono andata anche a ricercare sulla sua pagina Instagram senza successo. I post in questione infatti come potete vedere vengono dal sito Ultime Notizie Flash. Onestamente sono alquanto allibita e sconcertata nel leggere queste notizie. Per un solo motivo che mi sembrano davvero surreali. Ovviamente seguirà una replica di Oscar Branzani a queste affermazioni se non peggio. Voglio fare una chiosa che non c'entra nulla, mi ricordo di critiche di Eleonora a Raffaella Mennoia che non li chiamava a raccontare in televisione il loro amore. Mi domando cosa avrebbe raccontato a questo punto. Cmq6 confesso che sono alquanto allibita. Da quanto ho letto. Cmq期ci sui l'ottifo. Grazie a tutti.